anche tu ogni mattina fai la solita guerra ancora queste schiume che si seccano questo è farsi la pelle non la barba basta con le schiume che si seccano crema rapida palmolive palmolive mette pace tra lama e pelle perché resta morbida e unida per tutta la rasatura crema rapida palmolive oggi in tre fragranze naturale al mentolo limone e per finire dopo barba palmolive rimane vivo sulla pelle palmolive la linea da barba